Ero bello, buono e uomino. Ero contento del lavoro che svolgevo. La tragedia è grande, non solo per me, ma anche per il datore di lavoro. La ditta si chiamava, si chiama con la mia figlia, e la proprietaria si chiama con la mia figlia. La datrice questa mi ha detto, non so mi ha detto, non so. Non mi hanno detto nulla. Hanno detto solo che non l'hanno vista più alla marchina. Non devono morire, mi ripeto, né ventenni, né trenta, né sessanta, né settanta. Sono vite umane tutti. Bella, solare, amava la vita. Era umile, buona. Non criticava. Solare. Studiava all'Einaudi, però al terzo anno è interrotto, poi è nato il bimbo, è ragazza madre. Non gli faremo mancare l'usa, gli mancherà l'essenziale, però diremo come tutti che è andata a completare il giardino, delle belle stelle brillanti. La sua mamma, la chiamava la mia mamma splendida. Da ieri è strano, mi ha chiesto la mamma quando torna dal lavoro. Qualcosa a capire, sì. Mio figlio è disabile, fratello. Ha conosciuto anche Pieraccioni. È stata contattata, ha fatto il casting ed è stata presa. Sì, ne ha fatto se sono rose. Le dico che le sarebbe garbate diventando. No, no, così.